Un albero di Natale che al posto delle sorprese e dei regali è stato abbellito con dei post-it caratteristici fogliettini gialli nei quali i cittadini hanno esposto le loro richieste. Vogliamo che si rispetti il diritto al lavoro, si reggiano la maggior parte dei post-it, come ha riferito Francesco Pisana dei giovani della CGL di Modica. Tutti hanno chiesto una stabilizzazione contrattuale sempre meno applicata dopo l'avvento sul mondo del lavoro dei CoCoCo e CoCoPro, i cosiddetti contratti a tempo determinato. Gli alberi di Natale sono stati esposti durante il fine settimana in due centri commerciali a Modica e Ragusa e Francesco Pisana a tirare le somme. La gente si è fermata, ha voluto mettere in risalto la mancanza del diritto del lavoro, la mancanza del diritto ad una casa, il diritto a una retribuzione congrua. Continua con ottimi risultati anche la campagna regionale Filmiamo gli stage promossa dai giovani della CGL che consiste in una proposta di legge popolare che possa dare diritti e tutelare a migliaia di stagisti in Sicilia circa 17.000. Fra le richieste di fermiamo gli stage c'è la retribuzione minima, certificazione delle competenze acquisite, sanzioni per gli stage truffe, incentive alle imprese che assumono a tempo indeterminato i giovani che hanno concluso lo stage. La raccolta sta già raggiungendo le 10.000 film in poco più di tre mesi, tante quanta ne servono per presentare il disegno di legge di iniziativa popolare all'Assemblea regionale siciliana. Noi vogliamo che la materia venga regolamentata e in modo che non ci siano falsi alibi per le aziende per muoversi diciamo in queste forme contrattuali. Grazie